Per me l'amoroso è come fare di mobile quando le coppie stanno in questo momento di grande amore. E che possono, non so, è come quando vedi questo o questo, pensa sempre una fidanzata per condividere il momento. Un momento di innamoramento e di passione e di carizia, come si dice carizia? Carezza.